buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di pano tv iniziamo insieme la giornata sono le sette e un minuto staremo insieme una mezz'oretta per dare un'occhiata ai giornali e cominciamo subito dall'almanacco del giorno oggi è giovedì 23 novembre 2023 e vediamo chi si festeggia eccolo il santo e san clemente primo papa visse nel primo secolo ebbene fu il terzo papa il terzo papa romano dopo lino e dopo cleto zelantissimo oratore scrittore non tardò molto con queste sue peculiarità a cadere nelle mire dei persecutori era sotto traiano e che lo condannarono ai lavori forzati nelle cave di pietre nel chersoneso e poi fu condannato a morte fu martirizzato gettato in mare con un'ancora appesa al collo ma anche in questo caso poi accadero dei miracoli perché il corpo ritornò a galla e andò a finire proprio spontaneamente nel sepolcro così riportano le cronache vediamo anche le previsioni del tempo e beh dopo dopo la pioggia di ieri oggi abbiamo un deciso miglioramento su tutta la regione marche seppure con una nuvolosità sparsa a tratti compatta in modo particolare al mattino le massime sono in lieve rialzo 13 gradi insomma siamo persa poco lì come ieri la minima è 8 gradi i venti sulle coste spireranno da ovest nell'introterra da sud sud ovest il sole salza tra poco alle 7 e 18 e tramonterà alle 16 e 34 ciò detto passiamo alle notizie e vediamo come il corriere adriatico apre ancora con i risvolti del fatto di sangue il fatto di sangue con il delitto che si è verificato in via in via a montefeltro a fano tra i due quartieri di poderino e di fano 2 chiesto il carcere per l'omicida l'accusa punta sulla linea dura delitto al poderino l'udienza di convalida dell'arresto di sfuggiti di angelo sfuggiti il pizzaiolo che ha così ucciso la moglie strangolandola oggi la decisione del giudice al momento è ancora in ospedale angelo sfuggiti dopo aver tentato il suicidio ingerendo dei barbiturici e piantonato dai poliziotti il giudice si è riservato la decisione sulla misura cautelare ieri mattina l'udienza di convalida dell'arresto di angelo sfuggiti settantenne accusato appunto di omicidio il pubblico ministero ha chiesto la misura cautelare del carcere mentre illegale ha chiesto una misura più tenue rimarcando l'assenza della possibilità di ritirazione del reato sappiamo che angelo sfuggiti ha fatto quello che ha fatto in un momento proprio di esasperazione non riuscito più a contenere tutto quello che aveva immagazzinato dentro per quanto riguarda gli atti compiuti dalla moglie ed è stata una vita difficile quella degli ultimi tempi passata da angelo con i rapporti della moglie cosa che hanno confermato anche i figli nei prossimi giorni verrà fissato l'interrogatorio di garanzia quando angelo sfuggiti si ristabilirà grazie alle cure ricevute all'ospedale santa croce momento in cui potrà fornire la sua versione dei fatti chiarendo anche il movente ieri intanto è stata fatta l'autopsia sul corpo di rita talamelli un esame durato fino a tarda sera il cui esito poi si conoscerà nei prossimi giorni abbiamo anche dei risvolti in merito a questa vicenda si parla di salute mentale ne parla in modo particolare il presidente dell'associazione liberamente vito in serra la salute mentale cenerentola della sanità questa malattia questa malattia grave non riceve secondo vito in serra la dovuta assistenza da parte della regione marche nelle marche argomenta non è rispettata la norma che stabilisce un operatore ogni 1500 abitanti e nel fanese addirittura la carenza è ancora più pesante nella regione manca quasi la metà dell'organico il 47 48 per cento in meno rispetto alla dotazione ritenuta ottimale quindi vediamo che vedete come siamo indietro ancora per l'assistenza di questa malattia e poi abbiamo un risvolto anche sociale in quest'altro articolo uccidere o essere ammazzati non è la fine che meritiamo non hanno colpa andiamo non abbiamo colpa andiamo ad intasare i tribunali non è la fine che ci meritiamo noi anziani bisogna che reagiamo è una dichiarazione che ha espresso mauro ginesi è un aderente allo spi al sindacato anziani della cgl e poi abbiamo una d'altra dichiarazione in merito alla situazione che è appunto vige nel nostro territorio da parte di umberto bernasconi vediamo qui tre articoli quello principale poi quello della salute mentale questo qui a fondo a fondo pagina e quest'altro di spalla un altro articolo di apertura sul Corriere Adriatico riguarda un po' la conclusione al momento è solo una tappa del dibattito sul piano regolatore generale a fine di dibattito ci sono delle dichiarazioni da parte dell'assessore all'urbanistica Cristian Fanesi che fa una precisazione importante in merito a quanto dichiarato sull'ex zuccherificio dove è stata autorizzato l'insediamento delle aziende insalubri con questa denominazione dice Fanesi non è una denominazione che deve fare paura perché si tratta semplicemente di un deposito di frutta che viene autorizzato in merito ad una catena di supermercati quindi non è una cosa che fa male alla salute secondo appunto l'assessore Fanesi replica le principali obiezioni che sono state sollevate durante il dibattito del consiglio comunale da parte dell'opposizione sul PRG appena varato c'è una cerimonia particolare in Duomo a Fano questa mattina alle 11 in cattedrale ci sarà una messa celebrata la messa della Virgo Fidelis con la partecipazione di tutti i carabinieri è un momento importante per l'arma di cui appunto la Virgo Fidelis è la santa patrona andiamo andiamo restiamo a Fano restiamo a Fano perché abbiamo un terzo articolo in apertura che riguarda il carnevale ma soprattutto i conti che riguardano la realizzazione della prossima edizione del carnevale un carnevale da 900 mila euro tanto costano tutte le manifestazioni non solo i tre corsi mascherati che sono un po' il clou del carnevale Fanesi ma poi ci sono tante altre iniziative che si svolgono durante le settimane di febbraio nessuna delle erogazioni a bilancio vale i 282 mila euro della vendita dei biglietti sì ci sono sponsor che il comune di Fano per esempio che è lo sponsor più importante 130 mila euro sono veramente importanti ma l'entrata più grossa è quella della vendita dei biglietti un carnevale da quasi 900 mila euro quello del 2023 grosso modo 100 mila euro in più rispetto a quanto fissato nel bilancio preventivo che è stato fatto a suo tempo ebbene vediamo un po' i conti abbiamo detto 130 mila euro da parte del comune 100 mila euro sono stanziati dal ministero dalla regione sono arrivati 40 mila euro e il gettito più rilevante è quello del botteghino 282 mila euro al quale poi vanno sovrapposti 58 mila euro generati da tribune e palchi quindi oltre al biglietto d'ingresso c'è anche quello per salire sulle tribune e sui palchi 92 mila euro l'entrata garantita dagli sponsor quasi 69 mila euro quelli ascritti al getto e mentre poco meno di 20 mila vengono dalla lotteria e più di 13 mila dagli ambulanti il getto il getto costituisce un'entrata perché chi vuole salire sui carri e divertirsi elargendo il getto sulla folla ebbene paga qualcosa alla carnevalesca paga qualche non so adesso forse mille duemila non so duemila qualcosa così insomma per quanto riguarda gli euro ebbene passiamo a mondolfo a mondolfo si parla di antenne ebbene monta la protesta in merito alla diffusione delle antenne monta un po in tutto il territorio abbiamo visto a pesaro a fano in altre località issate gli striscioni anti antenna i residenti non ci arrendiamo ecco qua basta antenne sull'essato ieri in via vittorio veneto a mondolfo dunque monta la protesta contro le stazioni radio per la telefonia mobile 5g un impianto che al momento non risulta attivo ma che è stato issato in un terreno privato ridosso del cimitero comunale in una posizione che i residenti considerano troppo vicino alle case e quindi sarebbe a rischio la salute umana la val cesano si mobilita per il 25 novembre abbiamo testimonianze mostre incontri per il contrasto alla violenza sulle donne abbiamo che il 25 novembre si celebra la giornata internazionale di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e vediamo come ancora molti episodi proprio in questi giorni si replicano per una infinita serie che sembra non avere mai fine ebbene a san lorenzo ci sono diverse iniziative alle 10 e 30 nei giardini pubblici il circolo pensionati ancos e l'amministrazione comunale inaugurano l'installazione di uno dei simboli di questa giornata e poi ci saranno incontri mostre testimonianze e l'inaugurazione di una panchina rossa e cartellini rossi si cartellini rossi ci saranno anche a fossombrone lo vediamo qui in questo articolo cartellini rossi si alzeranno allo stadio bonci riporteranno frasi degli studenti del donati contro la violenza delle donne quindi abbiamo iniziative a fossombrone l'abbiamo san lorenzo in campo poi vedremo anche che l'abbiamo a fano a pesaro insomma in tutti i centri urbino e via dicendo giriamo pagina e vediamo ancora un articolo purtroppo un dramma un dramma che si è verificato sulla strada malore al volante in autostrada muore giovane dirigente sportivo aveva 45 anni si tratta di luca a casa grande è deceduto a causa di un malore mentre era la guida della sua auto veniva da cattolica e molto conosciuto a pesaro a fano a fano era nato a pesaro abitava ed era molto conosciuto shock nel pesarese per luca a casa grande soccorsi purtroppo inutili lascia la moglie e due figli il dolore delita service l'ultimo istante di lucidità ieri alle 10 e 30 con il suo gesto probabilmente ha evitato che si verificassero altri incidenti è riuscito ad accostare l'auto al margine della strada e poi si è accasciato sul volante è purtroppo espirato la famiglia casa grande conosciuta anche a fano visto che i due fratelli di luca sono titolari della bar pasticceria peccati di gola peccati di gola a pesaro a pesaro era titolare della boutique life zone nel centro storico sorella di simona marinelli e moglie di lorenzo pizza presidente dell'itar selvi calcio 5 di cui era un apprezzatissimo dirigente questo un tratto della sua personalità del suo carattere vediamo anche la pagina di senigaglia condannato per rapina niente permesso ma lui si è integrato e il tar ribalta tutto ebbene si tratta di un giovane residente un giovane straniero residente nel senigallese a ostra era a lui era stato revocato il permesso di soggiorno per rapina però insomma si era integrato si era integrato il questore gli aveva dato il foglio di via l'aveva indirizzato nel suo paese però insomma il tar ha cambiato le carte in tavola e gli dice che quel permesso di soggiorno non può esserli revocato perché dopo aver avuto dopo aver dopo essersi integrato con una occupazione stabile ora non dovrebbe costituire più un pericolo la sentenza del tar è stata emessa l'11 novembre scorso vediamo anche qualche notizia di pesaro dove si parla di villa fastigi villa fastigi ecco qua abbiamo due soluzioni per quanto riguarda la viabilità contro il rischio di incidenti purtroppo la velocità e la bestia nera la velocità e la bestia nera un po di tutti gli incroci pericolosi comunque questo è stato trattato esaminato durante una animata assemblea dei residenti con l'assessore belloni e i tecnici del comune il nodo è la messa in sicurezza dell'incrocio ritenuto pericoloso si tratta di un incrocio che si trova a villa fastigi dunque si tratta della strada in sala e il bar edi e questo un po l'incrocio martedì sera è stato discusso nella sede del circolo arci ora la passa passa al consiglio di quartiere che lunedì prossimo sarà chiamato a dare il benestare alla proposta per una modifica di viabilità nell'ingresso del centro abitato si tratta dunque di rendere meno pericoloso questo incenso e vediamo appunto i due casi che vi ho accennato prima per quanto riguarda la violenza sulle donne l'ex si rompe in casa lei si barrica in cucina l'uomo arrestato era già segnalato per stalking ed è l'ennesimo caso che rileviamo è accaduto a pesaro ebbene lei lo vede entrare in cucina con un fare esagitato con un fare pericoloso lei si barrica appunto nel locale per fuggire agli scatti d'ira del suo convivente l'uomo era stato denunciato già in precedenza per stalking e maltrattamenti l'otto marzo scorso proprio nel giorno della festa della donna e ieri c'è stata in tribunale la convalida dell'arresto con l'indagato che si è al valso della facoltà di non rispondere il giudice poi si è riservato la decisione di emettere o non emettere la misura cautelare un altro fatto invece riguarda la persecuzione alla moglie sono due fatti simili comunque la donna si è rivolta alla polizia nel mirino anche un suo amico subiva da anni la violenza psicologica ma anche fisica da parte del marito e non lo aveva denunciato perché poi sapete il caso è molto simile ad altri padre dei figli forse c'era ancora la possibilità di ristabilire un rapporto sembrava che all'inizio si ricomponessero i rapporti tra i due poi lui ricominciava ricominciava a essere prepotente ricominciava a essere manesco e via dicendo alla fine anche questo è finito davanti al giudice trovata la forza di denunciare la donna ha consentito all'autorità giudiziaria di disporre gli arresti domiciliari chiaramente non nella stessa casa in cui la coppia viveva lui deve andare da un'altra parte una misura però che in caso di inosservanza potrebbe aggravarsi fino alla custodia in carcere quindi quest'uomo deve stare particolarmente attento e non si trova a marcelli non si trova federico marcelli l'uomo che rompendo il braccialetto si è dato alla fuga anche in questo caso è stato un episodio di violenza contro le donne si tratta di stupro addirittura e era evaso dagli e dagli arresti domiciliari la vittime temono ora una vendetta si tratta di federico marcelli 47 anni ristoratore pesarese evaso dagli arresti domiciliari dopo aver rotto il braccialetto elettronico e condannato a vario titolo per violenza sessuale maltrattamenti e lesioni insomma lo si cerca c'è stato anche un summit in prefettura insomma la polizia è molto molto impegnata a ritrovare questa persona evasa si parla anche dei saldi perché insomma il 5 gennaio non è molto molto lontano è una data questa che viene contestata per quanto riguarda i saldi i saldi in modo particolare nel settore dell'abbigliamento si cerca di cambiarle fermiamo la chiusura dei negozi conf commercio e conf esercenti che vediamo merigo varotti e davide ipaso contano sull'impegno della regione per posticipare le date insomma il 5 gennaio è troppo presto e poi vediamo nella pagina di urbino invece il caso di una famiglia che ha adottato una bambina in una bambina in cina ma l'aspetta da quattro anni le procedure sarebbero concluse ma l'impasse non si supera ora ci prova la politica con un appello al ministero e la politica ci prova con una istanza del consiglio comunale che si è svolto a fermignano dove appunto si cerca di sollecitare il governo magari il nostro ministero degli esteri a risolvere questo caso insomma questa bambina aspetta una vita migliore nel nostro paese e ancora vittime di femminicidi gli uomini porteranno i loro nomi ad urbino è stato presentato il programma per il 25 novembre si tratta di diverse iniziative si tratta dunque vediamo l'eliminazione della violenza contro le donne fai sapere che esiste il titolo della giornata che partirà dalle nove al cinema ducale con un incontro di sensibilizzazione rivolto agli studenti delle scuole secondarie in modo particolare le scuole sono coinvolte quest'anno al tema della violenza giriamo ora il resto del carlino ci troviamo sulla pagina di fano e parliamo della stazione ferroviaria stazione ferroviaria affanese che appare quasi dimenticata dal programma delle fermate dei treni stilato dalle ferrovie dello stato c'è una notizia buona l'aveva appunto enunciato prima l'onorevole baldelli e poi era stata ripresa da stefano pollegioni dell'udc il bypass ferroviario fa non c'è già neppure il frecciargento si ferma ebbene c'era questa questo treno da bianco passava ad argento e sulla tratta di ravenna ravenna ancona però a fano non ferma ferma in altre località ferma a pesaro a falconara marittima a iesi a fabriano ma non a fano che pure è la terza città delle marche e la stazione di fano viene spesso dimenticata dalle fermate questo è un danno economico perché poi per il turismo per anche il commercio per la produzione degli alimenti per i viaggiatori che devono andare appunto in altre località è una sofferenza è una carenza che dovrebbe essere colmata e protestano anche i residenti della paleotta perché una casa colonica la vedete come era prima viene trasformata in appartamenti alcuni residenti contestano la scelta ritenuta troppo impattante rispetto alle altre abitazioni ma ormai è tardi la casa è stata demolita e il nuovo piano regolatore generale eviterà di fare questi scempi infatti ridurrà l'ampliamento della volumetria da 40 metri cubi da 40 metri cubi a 20 come così ora stabilisce il piano casa bici speciali e il ciclismo diventa inclusivo ieri è stata presentata nella sala della concordia della residenza municipale è stata presentata l'iniziativa tutti in bici è un'iniziativa che viene organizzata da diverse associazioni di volontariato che si dedicano all'assistenza alla riabilitazione dei portatori di handicap e l'andare in bicicletta rientra proprio in queste finalità pensate come può avere una così un spirito di libertà un portatore di handicap nel riuscire a mantenersi in equilibrio sulle due ruote un senso di autonomia un senso di libertà un senso di respiro che viene loro appunto reso realizzabile grazie all'impegno dei volontari che dedicheranno un venerdì alla settimana nella pista nel circuito marconi della pista atletica della pista della zona sportiva della trave un venerdì alla settimana per imparare a queste persone ad andare in bicicletta ci sono anche mesi speciali come dei tandem come delle biciclette senza pedali insomma c'è tutta una tecnica per far sì che questi ragazzi questi giovani possono imparare ad andare sulle due ruote c'è che ci impiegherà a mezz'ora c'è chi ci impiegherà quattro giorni non ha importanza l'importanza e l'importante e l'impegno di questi volontari poi abbiamo un volontario invece che è andato in africa e ha compiuto una impresa sportiva importante si tratta della maratona del serengeti ebbene abbiamo massimo sebat sebatinelli 57 anni fanese educatore in educatore in un appartamento protetto di psichiatria ebbene che ha percorso questa distanza 42 chilometri e rotti e per così dimostrare il suo impegno per quanto riguarda l'assistenza degli altri una bella iniziativa ed è una bella iniziativa anche quella che domenica prossima si svolgerà nel centro pastorale di via roma si tratta di un concerto con cinque cori che canteranno in onore di santa cecilia l'appuntamento è alle 17 nell'ex chiesa del seminario ci sarà il coro canta che ti passa la cappella musicale del duomo il coro di voci bianche in canto il coro dell'istituto diocesano di musica sacra e il coro polifonico malatestiano una bella iniziativa un bel concerto per passare la domenica e questa era l'ultima notizia massimo foghetti vi saluta vi dà appuntamento alle 7 di domani puntualmente grazie per l'ascolto a risentirci grazie a tutti grazie a tutti